Ciao amici, benvenuti su Koala Chef. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi brownies con il mio snack preferito, i KitKat. Quindi non perdete tempo e venite in cucina con me a prepararli. Per prima cosa sciogliamo 180 g di cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde. Poi aggiungiamo 180 g di burro e mescoliamo fino a quando non si scioglie. Se non si scioglie subito potete metterlo nel microonde oppure a bagnomaria come il cioccolato. Mescolate fino a quando non otterrete un composto liscio omogeneo. A questo punto aggiungete 3 uova al nostro composto. Versiamo poi 140 g di zucchero e mescoliamo con una frusta fino a quando non otteniamo un composto di questo tipo. Ora non ci resta che aggiungere 120 g di farina e mescolare bene. Mescolare fino a quando non si ottiene un composto come questo, bello liscio e senza grumi. Ora che l'impasto è pronto versiamo ne metà in una teglia rivestita di carta da forno. Spalmiamo bene in modo tale che aderisca al fondo. E adesso arriva la parte più bella e più golosa di tutte. Scartiamo 3 confezioni di KitKat e li disponiamo in questo modo sulla superficie del nostro impasto. Schiacciamo bene i KitKat e ricopriamo il tutto con l'altra metà dell'impasto. Inforniamo a 180 gradi per circa 25-30 minuti ed è pronto. Dovete assolutamente provare questi brownies. All'interno del loro cuore morbido si trova un croccante KitKat che vi farà innamorare. Quindi provateli, mettete mi piace al video e condividetelo se questi brownies vi sono piaciuti. Vi aspetto alla prossima ricetta!